Che cos'è il DNA? Scopriamolo! Il DNA, dove DNA sta per acido desossiribonucleico, è un acido nucleico presente nelle nostre cellule e contiene le informazioni genetiche per la sintesi dell'RNA e delle proteine, che sono le molecole base per lo sviluppo degli organismi viventi. Mi spiego meglio. Il DNA è un lunghissimo filamento a doppia elica, dove c'è una successione lunghissima di basi azotate, adenina, timina, citosina e guanina, ed è come se fossero una lunghissima serie di lettere. Gruppi di queste successioni di lettere si chiamano geni e contengono tutte le informazioni per il corretto funzionamento del nostro corpo. Insomma, il DNA è un gigantesco libro di ricette con tutte le istruzioni per far funzionare il corpo umano. E il nostro corpo lo usa, facendo delle piccole fotocopie per creare e far funzionare in modo giusto ogni pezzo del nostro corpo.